Musica Delle assi di legno al centro del palco, quelle che erano utilizzate per i letti dei profughi, su di esse ci sono ancora le scritte di quelle persone provenienti da Istria, Dalmazia, Venezia Giulia. Per celebrare il giorno del ricordo il Consiglio regionale della Toscana si è trasferito nel teatro comunale di Laterina. Proprio nel comune della provincia Aretina dal 1948 al 1963 era presente il centro di raccolta profughi dell'esodo Giuliano Dalmata. Non perdere la memoria e anzi rileggere un po' i fatti che accaddero quando i Giuliano Dalmati furono costretti a un esodo pazzesco. Se voi pensate 350.000 persone sradicate dalla terra dove i loro antenati, le generazioni una per una si era radicata dai tempi degli antichi romani. Pensate che Pola viene citata come il confine dello Stato italiano, quindi parte integrante del concetto che Dante Alighieri sette secoli fa scrive nella Divina Commedia. Istria, il Quarnaro, quindi fiume, ma poi tutta la Dalmazia, Ragusa, Zara, Spalato sono parte integrante per secoli e secoli di una storia d'Italia. A venire e essere costretti all'indomani della seconda guerra mondiale a venire via mi sa del disagio di queste persone. Siamo alla Terina perché la Terina fu il campo profughi più significativo, più di 2.000 persone in cui si concentrarono quelli che vennero in Toscana. Noi dobbiamo anche chiedergli scusa perché non furono trattati all'inizio con l'accoglienza con cui gli italiani dovevano accogliere italiani, ma furono visti con diffidenza perché c'era il clima dei due blocchi della guerra fredda, la ideologizzazione fra comunismo e mondo occidentale, ma in realtà nelle foibe più di 10.000 persone morirono perché erano semplicemente italiani e c'era una discriminazione di natura etnica. Io ritengo quindi che sia il momento di ricomporre tutto, del resto i confini oggi sono sempre più leggeri fra i paesi dell'Unione Europea, perché siamo tutti europei, stiamo combattendo tutti insieme per legittimare l'Ucraina. Figuriamoci se dobbiamo vivere con ancora separazione ciò che avviene in Italia, in Slovenia o in Croazia. E conseguentemente il giorno del ricordo, esattamente 20 anni fa, con una legge del 2004, voluta da Carlo Azzerio Ciampi, un grande presidente della Repubblica Toscano, deve essere il momento in cui alle nuove generazioni gli trasmettiamo il senso con cui sono accadute cose che onestamente vogliamo non accadano mai più. Abbiamo deciso di andare nei luoghi in cui purtroppo si è vissuta la tragedia delle foibe. I tanti cittadini, Dalma, Tristriani, che hanno dovuto lasciare le loro terre per l'atrocità conseguente alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Qui c'è stato un campo, che era un vecchio campo di concentramento, che li ha accolti per tanti anni. A noi il compito di non voltarci dall'altra parte, a noi il compito di ricordare, perché quello che è accaduto, la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, le tragedie della Shoah e delle foibe non devono essere dimenticate. E oggi, più che mai, nel momento in cui non ci sono le donne e gli uomini che vissero quelle tragedie, quelle violenze, quelle atrocità, spetta alle istituzioni farsi carico della memoria. Perché solo ricordando non accadrà più. Solo insegnando alle ragazze e ai ragazzi quanta violenza, quanta atrocità l'essere umano è in grado di fare, si può lavorare per costruire pace. E oggi, oggi, abbiamo bisogno di pace. E ognuno di noi deve attivarsi perché tutte le guerre che insanguinano il mondo possano avere fine. All'Aterina, nel 1941, si è praticamente formato un campo che all'inizio era di prigionia per i prigionieri di guerra inglesi. Poi, dopo la guerra, è diventato un campo di profughi per, appunto, coloro che fuggivano dal confine orientale dopo l'annessione di alcune terre alla Jugoslavia. Quindi, qui all'Aterina sono arrivati tantissimi profughi. Nel 1948-1949 erano circa 3.000 profughi con una popolazione del comune di 3.300 abitanti. Quindi, si può capire anche quale sia stato l'impatto. Questo ha creato dei legami molto forti fra queste persone e i laterinesi. Si è creato dei legami di solidarietà e di vicinanza. E il dramma delle foibe, che da altre parti è passato sicuramente inosservato e non ricordato per tanti anni, qui all'Aterina era ben presente. Molti sapevano i problemi che queste persone avevano vissuto, il dramma di aver abbandonato le proprie case e trovarsi a vivere in un campo profughi con condizioni che sicuramente non erano quelle di un'abitazione che avevano prima del loro esodo. Lo scopo di queste giornate è quello di far memoria e rendere onore ma soprattutto anche ricordarsi di quello che è stato il dramma delle foibe e il dramma dell'esodo dei profughi istriano-dalmati. Questo perché dobbiamo metterci nella condizione che questo non si ripeta. Come poter mantenere vivo il ricordo della tragedia delle foibe affinché non venga dimenticata una volta che gli ultimi testimoni diretti non ci saranno più? Mi piacerebbe che come Regione potessimo sostenere un museo che ricordi la tragedia delle foibe qui su questo territorio. Non è semplice trovare risorse ma ognuno di noi deve fare la propria parte in questo senso perché solo toccando con mano si può capire quello che è stato. Se noi togliamo e perdiamo i segni tangibili di quello che è stato rischiamo di perdere la memoria. Un giorno molto importante per la Toscana e non solo, un dramma per troppo tempo dimenticato una situazione che ha visto coinvolte tantissime famiglie italiane non soltanto nel dramma delle foibe ma anche nell'esilio ed è corretto e doveroso mettere l'attenzione con un consiglio regionale solenne alla Terina, una città legata con questa storia che vede tante donne e tanti uomini avere sofferto. Bisogna ricordare non soltanto il dramma delle foibe, non soltanto i morti ma soprattutto la sofferenza che molte persone hanno portato con sé ovviamente scappare e dover abbandonare le proprie abitazioni per cercare rifugio, la paura di quella tortura, di quel comportamento inumano che hanno subito molti nostri connazionali deve rimanere sempre presente nei nostri ricordi. Per questo questa giornata del ricordo sta diventando in questi anni anche come consiglio regionale della Toscana una delle più importanti perché è la più forse grossa sofferenza che ha subito il popolo italiano negli ultimi cento anni. Si parte sicuramente dal ricordare lo scopo della legge del 2004 che è quello di conservare e rinnovare la memoria di quei fatti tragici delle foibe, dell'esodo, degli estriani e dei dalmati e sono particolarmente soddisfatto oggi di aver proposto, suggerito che si tenesse qui la seduta solenne del Consiglio regionale e ringrazio tutto l'ufficio di Presidenza per aver accolto questa idea che ci aiuta a ricordare quello che è stata la la vita in quel campo di assistenza dei profughi estriani e dei dalmati che è stato in piedi dal 1948 al 1963. Si arrivò qui a circa 2000 persone che vissero in quegli anni nel campo di La Tierina. Una realtà importante che vide dei problemi di poco conto come ad esempio quello della occupazione delle persone che vivevano la realtà di quel campo, delle condizioni igienico-sanitarie di quel campo. Sappiamo che vi furono dei laboratori di maglieria, di calzoleria proprio per dare la possibilità di avere un lavoro o una occupazione. Questi fatti devono essere ricordati con la nostra presenza qui che è una presenza altamente simbolica. Il Consiglio regionale si è spostato da Firenze per venire alla Tierina appunto per conservare e rinnovare la memoria. Questo è un giorno del ricordo che resterà nel ricordo dei consiglieri regionali e anche delle persone qui di La Tierina. Siamo vicini come istituzione e questo è estremamente importante. Un'altra giornata solenne della solennità della storia che è storia d'Italia e storia della Toscana qui a La Tierina dove una parte della storia degli esuli di casa nostra viene raccontata e viene celebrata. Nel giorno del ricordo un altro tassello di quella storia da ricostruire e mettere assieme per una memoria condivisa sotto l'auspicio e sotto il patrocinio della regione toscana. Dobbiamo fare iniziative pubbliche all'interno delle scuole di carattere civile che ogni anno finalmente continuano a crescere grazie anche al ruolo e al contributo non soltanto nel mondo della scuola ma delle associazioni, degli eredi o comunque di coloro che portano avanti una memoria così tragica e l'obiettivo è che le istituzioni facciano con la maiuscola la loro parte. Il Consiglio regionale secondo me adempia i suoi obblighi ogni volta che costruisce, partecipe e promuove eventi che consentono di approfondire fatti complessi della nostra storia come la storia del confine orientale durante la seconda guerra. È un dovere che abbiamo nei confronti dei cittadini più giovani perché solo dando un nome corretto alle cose, comprendendo i fenomeni si può dar loro quella base solida che consente di crescere e di edificarsi anche nel loro apporto alla cittadinanza e alla comunità dei cittadini e delle cittadine in modo consapevole, pieno e ricco. Come Presidente della Commissione Istruzione e Cultura credo che sia doveroso coltivare la comprensione della complessità non solo riguardo alla storia ma anche riguardo al presente e la storia non è altro che il mattone su cui noi costruiamo la nostra coscienza civile oggi. Poi anche il futuro, ma intanto mi preoccuperei dell'oggi e credo che ci sia un gran bisogno visto anche i fatti a cui assistiamo di mistificazione, malcomprensione e confusione di aiutare specialmente i più giovani ma anche noi stessi a comprendere bene i fenomeni e a dare loro la giusta connotazione. Presente alla seduta anche Guido Giacometti, referente per la Toscana dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Lo ritengo un inizio di una lunga strada per riportare a certe verità che sono nascoste. Siamo appena all'inizio, siamo molto indietro per esempio rispetto a quello che ha fatto la Slovenia. Certamente il governo ha accelerato, ha dato una forte spinta. Comunque c'è molto da lavorare e ci vedremo in altre occasioni. Basti pensare che la Slovenia, che è grande come la Toscana, ha messo una commissione che lavora già da 15 anni e lavorerà ancora per i prossimi 5 e ha individuato in una zona tipo come la Toscana 600 fosse comuni, fosse comuni da poche persone fino a 4.000. Per Giacometti anche un ricordo personale con i campi di Laterina. Ricordo personale, diciamo, ricordi del campo prof, io ero piccolissimo. Il campo prof era vissuto in maniera diversa dagli anziani con una tristezza infinita. I bambini come me si divertivano a correre sotto le coperte stese, era quasi un gioco, però per i grandi era molto pesante. Saluto per gli anziani che poi sono finiti spesso in caso di riposo, perché non si poteva assistere dal punto di vista medico oltre un certo livello e quelli parlavano il nostro dialetto antico e per esempio dove era la Tortona, anche quelli di Tortona parlavano, quindi loro si trovavano in ambienti in cui neanche riuscivano a comunicare. I miei genitori sono stati privilegiati in quanto erano statali e quindi praticamente hanno continuato a lavorare, ma un contadino che abbandonare di colpo la terra e trovarsi in un campo non fa nulla perché non c'era possibilità, era di una cosa, sono morti di crepacuore diversi. Il contadino, noi dobbiamo immaginare che quella volta, beh basta vedere qua come è cambiata la popolazione qui, la maggioranza erano contadini e i comunisti facevano di tutto per non farci andare via, tant'è che normalmente dato che il Trattato di Pace prevedeva che potevano andare via chi era di lingua madre italiana, finivano per dire di sì magari al marito e non alla moglie, la moglie doveva rimanere lì. Questo è il suggerimento di Giacometti alle nuove generazioni. Dovete studiare la storia. La storia, faccio l'esempio, è come una stanza in penombra in cui qualcuno ha una torcia e illumina quel che vuole far vedere e il resto rimane in penombra. Bisogna documentarsi, ci sono molti modi per farlo, grazie a internet uno può sfogliare i giornali dell'epoca, c'è molto da fare. Durante la seduta anche la testimonianza di Maria Claudia Valdini, figlia di un esule istriano. La nostra famiglia è stata divisa, quindi è una storia di lontananza e di forza per mantenere rapporti familiari e amicali. E quindi dal 2004, questi 20 anni di celebrazione, è assolutamente un ricordo importante di quanto mio padre si è impegnato per mantenere con le sue fotografie, con i suoi scritti, perché lui era corrispondente di un giornale degli esuli e quindi onorata di essere qui. Al termine della seduta solenne il Consiglio ha deposto una corona d'alloro presso il cippo commemorativo in ricordo dei martiri delle foibe, poi la successiva visita alle baracche del campo profughi.